Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Play di Pokémon Diamante Lucente Nello scorso episodio siamo arrivati a Giubilopoli e abbiamo affrontato il nostro rivale Nell'episodio di oggi andremo a Mineropoli dove probabilmente affronteremo e sconfiggeremo ovviamente la prima palestra Pokémon Iniziamo quindi con qualche sfida lungo il percorso che ci condurrà a Mineropoli Nel Marmocchi lottiamo con Pokémon vivaci, è per questo che siamo sempre pieni di energia Ok, ah questo qui è Apacirisu vero? Mi pare di sì No, Biduff Biduff è un Pokémon vivace? Ah, Zubat Va bene Ovviamente ragazzi non farò vedere al 100% tutte quante le lotte Se non quelle con il rivale Anche se nell'altro episodio l'ho tagliata quella col rivale Perché era praticamente attacco rapido, ritirata, attacco rapido, ritirata Non se ne usciva, quindi quella parte l'ho tagliata Ok, andiamo avanti Pokéball, che troviamo? Una Pokéball E lei cosa fa, lotta? Lo sapevi? Cosa? Ok Il primo Pokémon a scendere in campo è quello in cima della lista Oh no Ti prego Ah, posso scendere di là, giusto Ciao piccoletto, tu che fai? Il mio Pokémon stiamo sempre insieme Ora ti mostrerò come abbiamo legato Va bene Ci sta Criketot, sì, Criketot E quando si evolve, si evolve nel Pokémon Ok, brutto colpo Povero Criketot, l'ho distrutto L'ho smontato Livello 10 per Lucky Ehi Ah, però cambiando l'ordine I Pokémon in panchina non ricevono molti punti esperienza Eh, così mi starebbe anche bene, eh Allenarli allora Come? Stavo cercando dei Pokémon E invece ho trovato un allenatore Beh Insomma, dai Una teenager ci sta, su Si può fare, dai Siamo anche noi dei teenager Nel gioco Nella vita vera, proprio, no Da Moga ha passato il teenager E Andiamo un po' con tuono sciocchi Andiamo un po' che quanto gli facciamo Bidoof Mamma mia Il Poké God Che però ci ha creduto poco Se ci credeva un po' di più Ce la poteva fare Ma non ci ha creduto abbastanza Così è molto meglio giocare Cambiando Pokémon Variando spesso i Pokémon Perché almeno Eviti Di allenarli troppo Quelli Quelli che non Cioè, nel senso Quelli in panchina si allenano molto di meno Nonostante condividi esperienza attivo Se te la gestisci bene E ce la fai a non farli Overlevellare E poi Bene o male Siamo al livello 11 Che è il livello Al quale arrivavo Alla prima palestra Anzi Con Quando prendevo Chimchar Arrivavo alla prima palestra Con Monferno Già evoluto Con pugno rapido Per sconfiggere il capopalestra Allenavo solo lui Al 16 Quindi anzi Siamo sottolevellati Antagonismo Come abilità Per Shinx Non mi dispiace Poi vedrò Se tenere Shinx O Starly Definitivamente Perché Avrei già in mente Un altro Pokémon volante Eh? Ma abbiamo già finito? Sì, però se ti giri Di là Fai Non ci guardiamo più Negli occhi Tesoro Va bene Tu aspetti un attimo Signorina Perché devo prendere Lo strumento Qui che è Un repellent Lo uso? No Salve Ho ottenuto una medaglia stupenda Dal capopalestra di Mineropoli Questa qui mi ha fatto sorgere Molte domande al tempo Ve lo spiego subito Simona manda in campo Starly E tu dici Ma come ha fatto a battere Pedro Il capopalestra di Mineropoli Con Starly Avrà sicuramente Un altro Pokémon E poi Starly A livello 5 Non può aver sconfitto Pedro No? Vediamo come va avanti Ok E Starly Non ha più energie E una è andata Abiduf A livello 5 Come ha fatto a vincere la medaglia Io non ho parole Non lo so Mi face pensare Molti outcome Tipo Che il capopalestra Sceglie I Pokémon Il loro livello In base al livello Che hai tu In quel caso potrebbe essere Potrebbe averne usato uno Però non lo so Ah c'è un armacchio qui Lottiamo Così capirò se sono pronto Per affrontare una palestra Ma secondo me Sei più pronto Di quella tizia là Che ha vinto la medaglia Non si sa come Sì Eh sì Sì Sei molto più pronto Con Machop Tu che lei Con Bidouffe Starly Proprio 100% Te lo assicuro Amico mio Vediamo un po' Machop Ah non fa Karatechop Fa un full misbardo No non sei ancora pronto Per la sfida in palestra Caro Mi dispiace Allora Mettiamo davanti Ah ti Posso fare anche con Y Molto più comodo Oh Montanaro Salve Ah mi ferma lui proprio Volevo parlarci E dire vero ma Non hai ancora molta esperienza Come allenatore vero L'importante è che Anche tu ami Pokémon Ecco delle belle MT Ok Le MT che ci sono dato Contengono la mossa Spaccaroccia A proposito Le MT ti permettono Di insegnare una mossa A un Pokémon In un attimo Dopo averle usate Però si rompono Quindi pensa bene Su che Pokémon La vuoi usare Ok Dato che sono Un allenatore Premier Army Ti ho anche aggiunto Una nuova funzione A Pokéchron Lei è un buon uomo Grazie Per poterla usare Dovrei prima ottenere La medaglia Della palestra Di Mineropoli Hai un futuro brillante Davanti a te Non vedo l'ora Di vedere Quanto bravo diventerai Buono Ci sta Ok quindi Non possiamo andare avanti Oh attenzione Ci cala Si cala un Pokémon Dal soffitto Ed è Geodude Allora È rotolato Fino a noi Ah che bella L'ambientazione La cosa più bella Di questo gioco Credo che sia La barra della vita Che scorre Molto velocemente Quindi nel caso Di una zuffa Contro Blizz Sei Beh Scenderà più velocemente La barra della vita Che bello eh Zubat Non è nelle mie corde Né nelle mie intenzioni Catturarlo Quindi per il momento Lascio qua E abbiamo un allenatore Un allenatore di Pokémon Siamo sempre pronti alla lotta Dovunque ci troviamo Ma non stai facendo Un campeggio Non so Un picnic In una grotta Eric Ok Avanti Ah ti Preprutenza Va bene Eric Va bene Pistola acqua Ah Per un pelo Eia Un'altra pistola acqua Vai Buono Credo che dovremmo Allenarci di più Sì Lo credo E tu? Ho finalmente Attraversato la grotta Per festeggiare Questo momento Ti sfiderò Beh Vedendola dal tuo punto di vista Se sei arrivata Da sinistra Sì Elvira Picnic Girl Ma se arrivi Da Mineropoli Sei appena entrata Quindi Dal tuo punto di vista Magari sì Ma dal punto di vista Di chi viene da Mineropoli No Oddio Che c'aveva Mica mi ricordo Poteva pungere Badiou Per avvelenare Non mi ricordo Perché si evolve Un grinding Un grinding di diverse ore Nell'erba E per come sono fatto io Io granderei Nell'erba In una maniera Inverosimile Quindi Diciamo che Per il momento Il condivido esperienza attivo Andrebbe anche bene Ma poi Ma poi lo leverei Più in line del gioco Lo leverei Se si potesse levare Beh Se è con una sconfitta Che devo festeggiare Così sia Già È con una sconfitta Che devi festeggiare Ok Oi Ehi allenatore Non hai neppure una medaglia Gli altri allenatori Ti guarderanno Dall'alto in basso Come se fossi alle prime armi Vieni Ti faccio vedere Dov'è la palestra Ma C'è qualcuno lì Oh Sei tu Link Ce l'hai fatto Ad arrivare qui finalmente Lento come al solito Ci hai messo così tanto Che il capopalestra Se n'è già andato Ha detto che doveva andare Ehm Ah Sì Alla cava di Mineropoli Io ho già preso la medaglia Quindi a me non importa Ma tu Non ti preoccupare La prenderò anch'io Subitissimo Devo solo andare a parlare Col capopalestra Alla cava di Mineropoli No Dunque Lei cosa fa C'è un'arma montagna Che spetta sotto Tutte le treci costanti E divida le regioni di Sin In due zone ben distinte Ok Quindi andiamo a visitare La cava Direi Però qui c'è qualcos'altro Prima da fare Guardare con questo tizio Ok Qui c'è un cumulo di Carbone Beh Estraggono carbone Si Ah Qui bisogna scendere Ok C'erano dei Pokémon Che sembravano delle rocce Che strani Mamma mia Geodude Dai Qui c'è qualcosa No Mentre qui Difesa X Oddio Potrebbe tornare utile Prima o poi Ok Vediamo un po' Qui ci sono dei Pokémon Sì che appunto Selvatici Oh possiamo andare di qua Ah non lo pensavo Invece sì Possiamo fare il giro più corto Volendo Allora questi qua Sono anche allenatori Quindi parlare prima Col capo palestra Che è lui Si riconosce per chi ha i capelli rossi E l'elmetto rosso anche Ok Sposa ti sta a guardare Usando la mossa MN Spacca roccia Anche un masso Che ti blocca il cammino Per liberarsi Le massi Che bloccano il cammino Bisogna spaccarli Se riesci a ottenere La medaglia della palestra Che c'è qui in città Riuscirai a farlo anche tu Chiaramente Per vincere la medaglia Devi battere il capo palestra Cioè me Ok Vediamoci un po' Con questi tizi Eccolo qui Questo qui fa una pausa Per sfidarci Bravo Saggia decisione Remo Lavoratore Che bella texture Rivestito Perfetto Gelud Devo ammettere Però che ragazzi Che Ilka Con le texture Ci sa fare Davvero belle Oh Manda in campo Anche un Onix Ok Da che ce la facciamo Bene Bene Remo Lavoratore Pietà Chiedo pietà Già Fai bene E troviamo anche una pozione Bene E tu combatti Ok Ti sveglierò un segreto Portando il mio pokemon Al lavoro Mason Lavoratore Vabbè Ma ciò Abbiamo già visto Sei senza parole Bene E tu ci vuoi sfidare? No Perfetto Allora possiamo uscire E andare ad affrontare La palestra Bene Prima medaglia Sto arrivando Perfetto Quindi direi di Eccoci Entrare nella palestra E provare a spodestare Chi detiene Il podio E guarda questo tizio Ciao Futuro campione Ho detto poco fa Anche a un ragazzo Molto impaziente Il capo palestra Usa pokemon Di tipo roccia Ascoltami bene Devi sapere che Pokemon di questo tipo Odino l'acqua E sono anche deboli Contro le mostre Di tipo erba Eh sì Hanno davvero Un bel po' Di punti deboli Anche la terra Non significa però Che puoi abbassare La guardia Chi diventa capo palestra Sa anche compensare Le debolezze Dei propri pokemon Inoltre ricorda Che affrontare Pokemon di tipo roccia Con pokemon di tipo fuoco Non è facile Accesta questi pochi consigli E grazie Di avermi ascoltato Debole anche al tipo lotta Perché hai evitato Di fare giro largo Perché voglio diventare Più forte Voglio il potere Yannick Marmocchio Manda in capo Georud Vai con pistol Acqua Perfetto Ora capisco Perché hai deciso Di lottare con me Per batterti Certo Anche te sai O meglio Anche tu te Non te In realtà sarebbe Scorretto dire Però Solo coloro Che vogliono vincere davvero Possono affrontare In capo palestra E allora mi sa Che mi tocca vincere davvero Oh che luce Flavio E il marmocchio Che gira Gerud Bazzeccole Sarà facile Come bere Dell'acqua Da questa borraccia Andiamo con Pistolacqua Achti Che fastidio Achti Dirò Achti Cercherò di pronunciarlo Meglio che posso Ho scelto Ho scelto Un nome pessimo Però Ve l'ho detto Nel primo episodio Perché Perché è il dio Del mare Finlandese Eh no Chiamarlo Poseidonio Nettuno Non era bello Troppo Troppo facile E anche il marmocchio È stato sconfitto Che umiliazione Già Puoi ben dirlo E ora Il capo palestra Salve Benvenuto alla palestra Di mineropoli Io sono Pedro Il capo palestra Sono un allenatore Che ha dedicato La propria vita Ai pokemon Di tipo roccia Poteva chiamarsi Anche Pietro In quanto capo palestra Il mio compito È quello di valutare Il tuo potenziale Di allenatore E per farlo Dovrò mettere alla prova I pokemon Che lottano Con te Hai capito E bravi ragazzi Di Ilka Allora Pisto l'acqua Tanto per iniziare Per farti assaggiare La potenza Chi ha La Krenidos Come secondo pokemon Lui vero Ho anche un Onix Oddio Vuole imparare Morso Vux Ehm Fu mi sguardo Dai Alla fine Quella che Non userò mai Nel caso Dovessi usare Vux Ah Onix Ok Quindi ne ha tre Ricordavo bene Allora Visto l'acqua Che è un 4x Contro Onix Ma evito l'attacco Yeah Ah no 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 Ok Pensavo fosse più veloce Per un tratto Dico cosa Comunque Perché ho fatto botta Perché aveva un solo ps Dato che con vigore Ha resistito E vigore Ti lascia con un ps Quindi Ma è più veloce Accidenti Wow Sassata è quella Che fa Tentennare Sì Come frana Se non sbaglio E manderà Cranidos Ora Pensi di poter Sconfiggere Il prossimo Pokémon Come hai fatto Con gli altri Quello è il piano Wow Bello Ehi Sto che roba Bellissimo Aia Botto in testa Che botta Ok Beh che ce la facciamo Non può essere Non posso arrendermi Non ancora 36 Sì vai Facciamolo Tiro una pozione Anche lui Bene Partiamo da zero Allora quasi Oddio Potevo anche attaccare A questo punto Avrei vinto Ma va bene Ha voluto giocarmela Safe Dai Pistola acqua E GG ti direi Se non tentenno Buono Sì perché Può far tentennare Effettivamente Botto in testa Da quello che ricordo Wow ok Un bel po' di punti esperienza Questi Lati vuole imparare A doppio team No Non la userò mai Anche gliela insegnassi Impossibile I Pokémon Che avevo al donato Con tanta cura Beh dai Pedro È imbarazzante Ho perso contro Un allenatore Che non ha neppure Una medaglia Ma anche prima Contro il nostro amico Beh Così è la vita Tu hai rotato bene E io male C'è poco da fare Le regole Della Lega Pokémon Sono chiare Chi batte il capopalestra Riceve una medaglia Tieni Ti consegno Ufficialmente La medaglia carbone Della Lega Pokémon Yeah Ora che la medaglia carbone Puoi usare la mossa MN Spaccaroccia Al di fuori Della lotta Prendi anche queste Ma questa Ne è una Che cosa contiene Levito roccia Sono i boll- Ci danno io Allora i bolli Ci danno i capi palestra Dopo averle usate Però si rompono Ne ammetti Certo Non i bolli Giusto? Ce l'hanno ripetuto Va bene Allora dire un attimino Di farci un giro Tanto qui ci sta Il centro per Revitalizzare I fossili Musa minerario Qui c'è una strada Che non possiamo ancora Percorrere A dire vero Sì Quindi vediamo un attimino Qui che c'è una Pokéball Esatto Ah Lì ci sono delle Bacche Eh vabbè Mi sa che Si rovineranno E germoglieranno Di nuovo Cavoli però Se mi metto a perdere Tempo con le bacche Non ne esco più Ho rigiocato Pokémon Smeraldo Poco fa E mi ero Perso con le bacche Tipo 5 ore Solo con le bacche Ho perso Quindi No grazie Non voglio ritornare Con le bacche Quindi qui I fossili Di qua Oh Montanaro Che fa Ok Capopalestra E Pedro E anche Capo Dell'escavamento Dei minerari Pokémon Roccia Che sono Bitorsoluti Oh Qui È un palazzo Questo È un condominio Le vuole Machop In cambio Di Abra Ok Capito Perfetto Ok Se voglio fare Lo scambio Ci sta lei Tutti Pokémon Hanno abilità La vita è fantastica Ti dispiacerebbe Farmi vedere Uno Zubat Cosa Certa gente È un po' Strana Ha dei fetish Assurdi Ok Questi qui Parlano Dei Pokémon Anche loro Ovviamente Voi avete qualcosa Cosa di diverso Grazie Della Scuro Ball Grazie mille Ehi dove vai Salvi sopra Forza Ringrazia E voi capite qui Ah Psyduck Sì che è mezzo tonto Vero Allora A questo punto Bisognerebbe tornare A Giubilopoli E prendere la strada Che non ho preso prima Che era comunque Bloccata Da Spaccaroccia Cioè Da Da delle rocce Da rompere Con Spaccaroccia Quindi Per questo video È tutto Nel prossimo Penso proprio Che inizierò Appunto Ad avere Cimcia Rettardi In squadra Perché è ora Di scambiarli Infatti ho detto Dal terzo Quarto episodio Insomma Avrei cominciato A A mettere Anche loro In squadra Quindi Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito Il video In descrizione Link per Instagram E Telegram E se ancora Non siete iscritti Al canale Magari fateci un pensierino E noi ci vediamo Ovviamente Al prossimo video Bye bye Bye